Servono 85 minuti e la capolista reggiana per aver ragione dell'Olbia, Neglia e Spira e Lanini però a mettere dentro un questo tocco docile su Ciocci in uscita. Poi ancora, 4 minuti dopo, Lanini scappa via ad Emerson, entra in area diagonale, vincente, doppiette, 4 gol in campionato per il bomber della reggiana che resta in testa alla classifica. Avanti la Fermani in casa contro il Siena, il tocco vincente è di Urbinati dopo la sponda di Cognini dalla punizione di Mordini. Ma la formazione toscana impatta con Di Santo Varela e il gol di Paloschi che sottomisura firma l'1-1 finale. Avanti il Modena a Montevarchi, conclusione potente di Bonfanti, Giusti le spinge ma scarsella al volo di sinistro, mette dentro il gol dei Canarini che però poi vanno sotto, anzi prima impatta il Montevarchi con questo gran sinistro al volo da parte di Mercati che fissa l'1-1 già nel primo tempo. Quindi nella ripresa il Montevarchi la ribalta con l'ex Cubio Iallo che scappa via alla marcatura di Baroni e infila Gagno per il 2-1, nuova vittoria da parte della matricola Montevarchi. Avanti invece il Teramo sul campo della Pistoiese con Viero che rientra sul destro e infila Pozzi all'angolino con questo bel interno destro, quindi in contropiedi il tacco da parte di Bernardotto per Malotti che parta vele spiegate, arriva al limite dell'area di sinistro radente. Fissa il 2-0 per la formazione di Mister Guidi, poi riesce con l'incornata di Gennari ad accorciare la Pistoiese ma vince il Teramo, seconda vittoria consecutiva per la squadra bruzzese. Avanti il Cesena con l'Ancona Matelica, lancia tutto campo di Rigoni per Bortolussi che entra in area e fissa il vantaggio del Cesena che poi raddoppia nel finale Bortolussi, lancia in campo aperto Pierini che penetra in area e di sinistro in diagonale. Fissa il 2-0 per il Cesena sull'Ancona Matelica. Avanti la Lucchese contro la Vispesaro sull'incornata di Baldano, Farroni respinge ma c'è Bellic che sotto misura porta avanti i rossoneri, quindi da questa punizione profonda arriva l'incornata di Manetta che di testa supera il portiere della Lucchese Coletta per il pareggio e sempre da calcio piazzato arriva il gol partita. Di Gucci sul corner battuto da Cursi, tre punti d'oro per la Vispesaro sul campo della Lucchese. La Carrarese non si ferma più ma va sotto in casa contro Limolese che passa con il destro di Turchetta che trova il vantaggio per la formazione romagnola che poi però capitola sotto i colpi della squadra di Di Natale. Guardate Dumbia riceve da Bramante, ubriaca, Vona e con un destro secco sorprende Melgrati per il pareggio. Quindi da calcio d'angolo Calai di testa raddoppia sul corner battuto da Dauria per il vantaggio della Carrarese, Carrarese che poi triplica con questo mancino supersonico da parte di Luci per il 3-1 ad inizio ripresa. Poi arriva anche il poker con Vona che sbaglia tutto rinviando su Bramante che entra in area e di destro trova il 4-1 per la Carrarese, notte fonda sul Limolese. C'è solo lo squillo di Padovan che supera avversari come Birille con questo gran mancino sorprende Bettorelle per il 2-4 finale. Ancora una sconfitta per la Viterbese a cui non giova il cambio di allenatore con il Grosseto a decidere la partita. Questo gran destro di Fratini che regala tre punti ai mare e mani in terra Viterbese che cade ancora in casa.